Sabato 1 dicembre in piazza Plebiscito si celebra il ventennale del movimento Taranta Power, uno spettacolo vulcanico diretto da Eugenio Bennato, a cui parteciperanno le principali formazioni che negli ultimi decenni hanno custodito e interpretato il linguaggio della musica popolare. Taranta Power vent'anni dopo, con un bilancio che è sicuramente importante, infatti tant'è vero che i nostri assessori hanno immaginato uno slogan che suona musica identità rivoluzione, come dire il contenuto rivoluzionario di quella intuizione che è partita da Lecce, che è proseguita nei centri sociali del nord, io ho portato i vecchi, i ottantenni cantori di Carpino a Leoncavallo di Milano, proprio per partire dall'underground che più underground non si può, dalla musica tradizionale alle nuove tendenze e questo è stato, ha prodotto un grande risultato. Non è che sono stato solo io, ci sono stati tanti altri che hanno lavorato nella stessa direzione, però noi abbiamo il privilegio di essere stati quelli che l'hanno intuito per primo. La manifestazione, voluta e sponsorizzata dal Comune, è una chiamata raccolta dei maestri e delle nuove leve della musica popolare di tutte le regioni del sud, dalla Sicilia alla Puglia, alla Calabria, alla Basilicata, alla Campania. La grande tradizione della musica popolare, che affonda nelle più profonde radici della volontà e nella spiritualità del nostro popolo, è stato per noi in questi anni un fattore di potente identità e anche di grande spinta al cambiamento, senza rinunciare ad essere noi stessi. Un grande sguardo sul Mediterraneo, una grande tradizione musicale, grandi artisti e tutti quanti ci ritroveremo in quella piazza del Palbiscito per, in nome di una forte identità e di solide radici, affrontare un nuovo mondo sulla base di valori fondamentali. Sul palco saliranno inoltre tre grandi voci femminili, Arisa, Dolce Nera e Pietra Montecorvino, che interpreteranno brani legati alla musica etnica del sud.